Ha ancora le lacrime agli occhi ed è visibilmente scossa Alina quando la incontriamo al Lido di Venezia. La giovane mamma è arrivata poche ore fa, grazie all'aiuto di alcuni amici veneziani in Laguna, in salvo dalla guerra e dalla città assediata di Leopoli, con in braccio Dimitri, il suo bambino di appena dieci mesi compiuti oggi. La donna, accompagnata dal marito, che poi non ha potuto espatriare con lei, in quanto tutti gli uomini non possono lasciare la propria nazione in tempo di guerra, è arrivata fino alla frontiera ungherese di Ciopp. Qui è salita su un treno gratuito per Budapert, dove ha trovato ad attendere a puntuale un amico di sempre, imprenditore, che da Cavallino Treporti è partito appositamente per andare a prenderla e portarla a Venezia, 1500 chilometri alla guida, per far ricongiungere Alina, alla madre, che vive e lavora in Laguna da tempo. È preoccupata per la parte di famiglia che ha lasciato in Ucraina? Spera che possano raggiungervi anche loro? Sì, certo. Spera che possano raggiungervi? Lei dice che loro non possono venire perché uomini devono restare lì a combattere. Per Vladi, che per uno scherzo del destino, ha lo stesso nome del dittatore russo, che gli ha fatto da autista per affetto e amicizia, ed è da vent'anni in Italia perfettamente integrato, missione compiuta con gioia. Un messaggio importante, l'amicizia e la solidarietà superano la guerra. Lei è arrivata perché c'è sua mamma che lavora qui a Venezia, per essere vicina e come noi conosciamoci da anni e anni, per quello sono andato anche io a prendere lì. C'era un treno gratuito per quelli che sono poveretti scappati da Ucraina, con bambini tutti quanti fino a Budapest e dopo da Budapest ho preso io e ho portato di qua. Loro sono organizzati con volontari tutti quanti per dare cibo da bere, medicina, mi hanno dato il ritorno a 2005. 2005, hai dovuto superare porti di blocco, frontiere? Sì, non ci sono frontiere, tutta Unione Europea non ci sono frontiere.